novelli batti velocemente attenzione a giorgi vediamo cosa si inventa c'è la parata del portiere doto al rinvio lungo attenzione qui all'attaccante caricato il mancino trifan ragiona giorgi cercato le un cavallo davanti al portiere incrocia e mette a rete leo un cavallo porta sull'1 a 0 il torre è spaccata dovidio chiude la linea passaggio va dovidio ecco leo un cavallo autore del gol del momentaneo vantaggio cercato giorgi attenzione all'estero del numero 10 doto in presa sicura c'è uno su ese levate uno da ese ha sistemato con cura il pallone trifan c'è lo schema liberare mari colpisce d'interno il pallone che esce fuori leo un cavallo all'arrabaggio leo un cavallo bel tocco per il numero 11 a tu per tu con il portiere non sbaglia è glaciale davanti al portiere è solo alza la testa le finte e allarga bene il gioco da leon cavallo la sterzata il velo di giorgi attenzione al cabinato che va a tirare incrociare ottimo lo stop di cardinali vediamo cosa si inventa cardinali la sterzata pensa per un attimo al tiro poi lo esegue li ha un cavallo uno sguardo e mezzo passaggio per composto si alza questo strano campanile all'interno dell'area composto di testa la mette giù trifan si gira con il mancino lo bisogna la tiene lì fraioli con l'esterno da mari macca pensa al tiro batte velocemente fraioli ecco macca il tiro è potente c'è il salvataggio sulla linea l'ovison ha sistemato tre uomini in barriera attenzione a macca un vero specialista di questo calcio di punizione la rincorsa di macca a giari la gioca con l'esterno da spugno che manda fioretti davanti al portiere fioretti fioretti la spara alta sopra la traversa di coda vince il torre spaccata per 2 a 0 contro il san filippo neri ciao ...